Che vogliamo una scuola senza reti e con un tetto che non ci crolla addosso. Sono le studentesse e gli studenti dell'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno a manifestare di fronte al palazzo della provincia di Arezzo per chiedere risposte. Tutto era iniziato lo scorso settembre a pochi giorni dal suono della prima campanella quando l'edificio era stato dichiarato inagibile per il crollo del controsoffitto e del solaio in un'aula. E noi siamo in questa situazione, cioè mezzi a Montevarchi, un pochini a San Giovanni e non abbiamo una scuola, vogliamo una scuola con un tetto decente. Parte delle classi erano state infatti spostate al centro pastorale di Montevarchi, altre al convento dell'ex Suores in mattina di San Giovanni ed infine nei locali della parrocchia di San Pietro e Paolo. Che noi siamo in dei sotterrani di una chiesa, non abbiamo la luce del sole, abbiamo i banchi a gotelle, abbiamo un armadio in classe, una lavagna, un metro per un metro. Una situazione complessa perché coinvolge 22 classi e 17 laboratori, quest'ultimi fondamentali per gli studenti del Marconi. Perché noi se non abbiamo un tot di ore di laboratorio non possiamo superare l'anno, quindi vogliamo anche dei laboratori per farci superare l'anno e avere il nostro diritto, cioè un'istruzione e anche un lavoro in mano, perché è questo che la nostra scuola ci fa, ci dà un lavoro. No c'è